Immerso nel vasto parco delle terme di Bacedasco, in un meraviglioso contesto naturalistico, si trova il Golf Club di Castellarquato. La struttura comprende un impegnativo percorso a 18 buche, una funzionale clubhouse, un accurato servizio bar-ristorante e un'accogliente foresteria. È un percorso di pregio, situato tra le dolci colline arquatesi, che impegna e diverte tanto il giocatore più esperto quanto il principiante. Sono uscite le nuove collezioni Primavera-Estate 2011, siamo con Riccardo Rizzieri-Broglia, un giovane designer di scarpe donna. Riccardo, quali sono le tendenze per la prossima stagione? Le tendenze per la prossima stagione sono tantissimo colore, tantissimi toni forti, allegri per celebrare l'estate. Poi ci sarà anche il Total White e poi un occhio di riguardo sempre per l'ecologia. Tacchi altissimi, sagomati, piccoli plateau e anche addirittura dei ceppi di legno che compongono tutta la zeppa. Diciamo che c'è una sorta di decorativismo, per esempio la mia collezione era tutta sull'opera di Coloman Moser, quindi parliamo degli artisti della secessione viennese. Per quel che riguarda invece i materiali? Tutto ciò che è camoscio, che è quindi molto morbido, confortevole, anche con delle stampe rettile, oppure dei vitelli tinti e conciati al naturale. Classico o più casual sportivo? La collezione Rizzeri ha sempre un occhio di riguardo per il classico rivisitato, sera e molto femminile. E in effetti, siccome le tue scarpe sono estremamente femminili, sono state indossate da una donna come la moglie di Colin Firth proprio durante i Golden Globe. Sì, durante le celebrazioni dei Golden Globe, Livia Firth, che è la moglie di Colin, ha scelto delle Rizzeri per la celebrazione sull'Hollywood Boulevard. Ha scelto questo modello che tra l'altro è un modello in vitello, tinto e conciato al naturale, per cui nel massimo rispetto dell'ambiente e è in un legno africano estremamente leggero. E a proposito di moda, è di gran moda il burlesque e ci si adegua con le scarpe, tanto che tu hai ideato una linea proprio per il burlesque. Sì, è nata questa capsule collection che è Rizzeri burlesque, per cui è una scarpa ispirata al personaggio interpretato da Cher nel film che esce a giorni. E tutte le scarpe Rizzeri burlesque sono state selezionate per il lancio del film in Italia e sono nella vetrina animata del Colin di Cinque Giornate qui a Milano.